Annalisa Scarrone, dopo un anno strabiliante dal punto di vista professionale, ancora oggi continuano a essere dei tormentoni, bellissima, e, Mona Moore, è pronta a sbarcare nel mercato musicale con un nuovo album. Dal 29 settembre sarà disponibile, e poi siamo finiti nel Vorti, poi punterà al Festival di Sanremo? Sulla questione frena, forse per tattica, e come molti suoi colleghi spiega che tenterà di essere arruolata da Amadeus, solo se trovo la canzone giusta da sottoporre, al direttore artistico della Kermess. Quindi ha aggiunto di aver scritto molto per il nuovo disco, anche se qualcosa fuori è rimasto, però bisogna mettere insieme le idee e capire se c'è la canzone giusta. Ovviamente un pensiero a Sanremo ce lo fanno tutti e ce lo faccio anche io, perché il festival è sempre più importante, però dipende tutto dalla canzone. Annalisa spiega il segreto del suo strepitoso successo degli ultimi mesi. Spazio poi al largo successo degli ultimi mesi. Cosa è accaduto? Qual è stato il segreto che le ha permesso di balzare in testa alle classifiche musicali? Annalisa ha raccontato che non c'è stata soltanto una, intuizione artistica, all'origine della sua scesa. Credo che il successo dell'ultimo anno lo devo a un cambio di atteggiamento altrettanto importante. Non ho avuto paura di essere ambiziosa. Prima facevo fatica, perché la mia educazione al rispetto degli altri mi frenava un po'. E poi siamo finiti nel Vortice, è un album che conta 12 brani e di cui Annalisa è coautrice. I testi sono stati scritti prevalentemente insieme a quelli che lei chiama i suoi, due compari, Paolo Antonacci e Davide Simonetti. I brani del disco rappresentano le varie fasi della vita che si ripetono ciclicamente, tra alti e bassi, salite e discese e che insieme creano il Vortice. Ogni brano è una rappresentazione emotiva di una di queste fasi, di questi Vortice. Poi c'è un brano, Indaco Violento, che è un po' la sintesi di questo concetto del viaggio attraverso queste fasi, perché a volte mentre insegui un obiettivo il tuo viaggio diventa qualcosa di diverso, l'orizzonte diventa più ampio e finisci in posti dove non avresti mai immaginato. Che poi è un po' quello che è successo a me negli ultimi. Ah, bellissima, ha fatto seguito, Mona Moore. Altra feat che giganteggia da mesi tra le feat del bel paese. Probabilmente non esiste un solo italiano che non l'abbia orecchiata almeno una volta. La canzone ha invaso le radio e le kermesse canore estive, facendo ballare migliaia e migliaia di persone.